Ciao. Ciao. Ti posso parlare? Certo. Ti chiedo un favore, non dire niente, visto che è un po' di tempo che non riusciamo a parlare senza litigare. Stammi a sentire. Eh? Negli ultimi tempi non faccio altro che pensare al nostro primo bacio. Pagherei per vederti arrampicare ancora a quella finestra. Non so, forse... Chissà cosa accadrebbe, forse saremmo ancora ottimi amici, forse riusciremo almeno a parlare, non lo so. Sicuramente non soffrirei così. Ma poi penso a quello che ha portato questo bacio nella mia vita. Mi piaceva poterti guardare e capire cosa stavi pensando, ma anche cosa stavi sentendo, perché io sentivo le stesse cose. Ma a quale prezzo? Visto che ora mi sento così male. Vorrei pentirmi di averti baciata, ma non posso. Perché è la cosa più bella che mi sia mai capitata. Doson, io mi sono innamorata due volte. Ricordi il test. Ma sempre di te. La prima volta mi sono innamorata di te come amico. Il Doson di sempre, il ragazzo che cresceva con me. E la seconda volta è stata quando mi hai baciata. Tu da quel momento sei diventato un altro per me. Ed è stato come innamorarmi di nuovo. Ma il fatto che non stiamo più insieme non vuol dire che i miei sentimenti per te siano cambiati, Doson. Solo che io sono confusa ora. Joy, io voglio darti il tuo spazio. Senza nessun rancore, senza ossessionarti o altro. Prenditelo se vuoi. Ma questo non cambierà quello che provo per te. Niente potrà cambiarlo. Non cambierà. Grazie a tutti.